In questo punto della mappa è presente un glitch davvero assurdo, se infatti salite sul cannone e vi sparate in questo punto ragazzi, il gioco praticamente vi lancerà lontanissimo e vi farete praticamente in mezza mappa semplicemente con questo bug. Ci siamo fatti ben 330 metri. Ovviamente più vi lanciate in alto e più verrete sparati lontano. Like e iscrizione per altri glitch del genere.